Si è conclusa da poco la sagra della nana a Montagnano, un grande successo, però è stata anche la sagra della discordia, perché ancora una volta è successo quello che non doveva accadere. Proprio per questo noi stamattina volevamo fare delle precisazioni. Innanzitutto la nostra manifestazione è stata bloccata, poco prima che iniziasse, per motivi di ordine pubblico. In secondo luogo, quindi, precisare che nessuno di noi maltratta le nane. Abbiamo avuto anche un processo nel lontano 1997 che si è concluso nel 1998 con una soluzione piena, perché il fatto non costituisce reato. E poi la nana viene messa in un carretto tirato da una bicicletta e questa bicicletta, dove c'è una persona naturalmente che pedala, fa dei giri del paese. La nana ogni tanto scende dal carretto, oppure tante volte è successo che la nana ha compiuto i sei giri ferma e immobile nel carretto. La nana che è la regina di Montagnano. Sì, è la regina di Montagnano. Infatti anche quest'anno ottima presenza di stand. Si ringrazia anche tutti i partecipanti che sono venuti, che sono stati numerosi. E quindi è stato un anno da record. Poi volevo fare anche due precisazioni anch'io, visto che sono Presidente, volevo dire che gli animalisti dovrebbero pensare anche a fare anche altre cose. Nei boschi sopra Montagnano stanno morendo diversi cani da polpette avvelenate e non ce ne mette i calciatori. Quindi potrebbero anche controllare, magari anche montare le tende, magari come fanno diverse manifestazioni. O venire come hanno fatto per il palio. E poi un'altra cosa importante, a Montagnano nessuno mai ha malta zona nana, mai. La nana è la regina.